Grazie a tutti. E questo è un simbolo, è un segno. Lavare i piedi è io sono al tuo servizio. E anche noi, fra noi, non c'è che dobbiamo lavare i piedi tutti i giorni l'uno all'altro. Ma cosa significa questo? Che dobbiamo aiutarci uno all'altro, l'altro a uno. E' Dio che per primo a sé, per noi, come il Dio sia un bel...